La giunta provinciale di Bolzano chiede le dimissioni volontari ai membri del consiglio di amministrazione della società energetica SEL al centro di un'inchiesta della procura. Non si tratta di sfiducia, ha spiegato il presidente Luis Durwalder, ma risponde alla necessità di garantire la totale chiarezza e trasparenza. Loro ci farebbero veramente un favore se loro dicessero guardate capiamo questo non vogliamo mettere in cattiva luce di nuovo la SEL e perciò siamo d'accordo di partire ex novo e perciò daremo le dimissioni. Se no noi dobbiamo decidere se questo vogliamo deliberare e che l'Assemblea Generale revochi questi consiglieri naturalmente con tutti i rischi che loro alla fine possono anche farci il processo perché noi possiamo revocarli solo se abbiamo una motivazione giusta e loro dicono questa non l'avrete. Non si indaga sulle amicizie ma è chiaro che il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge vale anche nei confronti dell'amministrazione pubblica. Lo ha detto il procuratore Guido Rispoli secondo quanto reso noto dall'agenzia ANSA è evidente ha concluso Rispoli che negli atti amministrativi le parentelle e le amicizie non devono avere un ruolo. Durvalder ha poi precisato la sua totale estraneità nella vicenda SEL e ha commentato così la campagna a lui contraria di una certa parte della stampa locale. I vari articoli pubblicati recentemente nei vari giornali vedendo un po' anche il cambiamento diciamo di questi orientamenti di valutazione di Durvalder devo dire diciamo che questo anche me ha un po' sorpreso perché credo diciamo che coinvolgere me in questa nuova società o in questo complotto se possiamo cramarlo così della SEL è veramente qualcosa diciamo che non posso accettare perché non ho minimamente né direttamente né indirettamente da fare qualcosa diciamo con questo. Noi non abbiamo cambiato né il parere della commissione del patto ambientale né il parere dell'ufficio.